Legalità e sicurezza proseguono a Gela gli incontri tra i carabinieri e gli studenti. Oggi appuntamento nell'auditorium dell'Istituto Ettore Majorana di Piano Notaro, diretto da Mirella Di Silvestre. L'incontro è stato organizzato dal docente Rosario Tornetta e rientra nel protocollo d'intesa tra l'arma dei carabinieri ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla formazione della cultura della legalità. Ogni anno facciamo questa manifestazione, questo è il secondo anno che ci viene a trovare il Maggiore Marra, siamo soddisfatti per quello che lui riesce a dare ai ragazzi e per quello che riescono a percepire loro stessi. Questo incontro è importantissimo perché praticamente ci dà la possibilità a tutti i ragazzi di capire qual è il ruolo fondamentale che l'arma dei carabinieri ha nel territorio. Noi nella scuola pratichiamo sempre la legalità, questo è il nostro goal, cioè i nostri obiettivi che giornalmente perseguiamo. Gli incontri proseguiranno nei prossimi giorni in altre scuole del territorio. Oggi siamo qui all'Istituto Superiore Ettore Majorana per un'importante conferenza di fronte a 400 studenti della scuola secondaria di secondo grado. Argomenti importanti ma soprattutto di stretta attualità che riguardano i giovani di età compresa 18, 19, 20 anni. 18 anni è un'età importante, cerchiamo di far comprendere ai ragazzi il ruolo, i compiti dell'arma dei carabinieri nella tutela, nel controllo del territorio ma soprattutto a salvaguardia dei ragazzi perché si possono divertire, possono studiare, possono anche molti di loro lavorare in assoluta serenità ma con grande rispetto delle leggi oltre ovviamente alla consapevolezza che è importante e soprattutto rispettare i regolamenti ma rispettare la libertà dell'altro.